Nonostante le rassicurazioni della maggioranza dopo la terza commissione sulla faccenda del dimensionamento scolastico, l'opposizione in comune attacca. La riforma del dimensionamento cambia i parametri per giustificare la presenza di un istituto comprensivo, sostanzialmente un taglio dei presidi per contenere i costi. Questa è la giustificazione. Nessun accorpamento taglio, dice la maggioranza, ma per le opposizioni non sarà così. I sindacati e presidi hanno spiegato che non è vero che c'è solo un taglio della dirigenza e il rischio è l'accorpamento di istituti con una contrazione dell'offerta formativa. Le opposizioni avevano chiesto la modifica della norma, la deroga applicata ad esempio per Ischia, ma non per il sisma 2009, ma la maggioranza ha deciso di non votare l'ordine del giorno con primo firmatario, Paolo Romano. Sindacati e dirigenti hanno abbandonato i lavori della commissione. Ci sono poi delle proiezioni sul territorio, hanno mostrato ai presenti una sulla piana di Navelli, che avrà un unico comprensivo da Navelli fino a Ovindoli, dei 46 stiluti in provincia, si prevede un taglio di 21-22. L'opposizione chiederà poi in consiglio comunale il voto sull'ordine del giorno, presentato da Albano e Palumbo, un documento che impegna la regione ad intervenire, ai parlamentari a battersi per la modifica della norma. Non è una battaglia politica, ma di difesa del territorio, hanno spiegato. I consiglieri regionali di Benedetta e Pietrucci porteranno la questione pure in regione ancora una volta. Noi abbiamo molta fiducia nelle parole che tutti i sindacati all'unanimità, tutti i dirigenti scolastici all'unanimità, ci hanno detto, nelle due commissioni consigliari, da me richieste supportate da tutto il centro-sinistra, in cui hanno denunciato il rischio di tagli pesanti alle dirigenze scolastiche e all'apparato amministrativo, che significa abbandonare dei presidi montani, dei presidi di aree interne. Noi questo non lo vogliamo e in più abbiamo denunciato ieri una cosa grave. è stato approvato un emendamento al Senato che deroga alle norme vigenti per il cratere 2016 e 2017, per il cratere di Ischia e non per il 2009. Siccome nelle altre leggi di bilancio mi sono adoperata io per mettere sempre anche la norma del 2009, chiedevamo ieri in commissione ai parlamentari e quindi alle forze politiche che governano l'Italia di farsi carico di questa modifica, che però ieri non hanno voluto votare, quindi è molto grave la situazione.